Questo tribunale definitivamente pronunciando in merito al procedimento penale scaturito dalla denuncia per calunnia sporta nei confronti della dottoressa Giorgia Basile. Ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, non sussistendo alcun elemento probatorio fondante l'accusa, così come prospettata nella querela e sostenuta dal pubblico ministero e dalla parte civile per il professor Sergio Monti, questo tribunale, stante l'assenza di elementi di prova schiaccianti, assolve la dottoressa Giorgia Basile per non aver commesso il fatto. Revoca con effetto immediato la sospensione e ordina il reintegro nella struttura ospedaliera. Grazie a tutti.